Sono passati 50 anni da quel 10 agosto 1965, quando dalla piccola stazione di soccorso di Via Fago, nel quartiere Gries di Bolzano, partì la prima ambulanza della Croce Bianca. Circa una decina i volontari chiamati a coprire il servizio. Nel corso degli anni l'associazione di soccorso è cresciuta e con essa è aumentato il numero di volontari. Ad oggi sono più di 56.000 i soci annuali ed oltre 2.800 sono i volontari. Pochi mesi fa c'è stato il passaggio di consegne tra il direttore di lunga data Georg Rammelmaire e Barbara Siri. Un'associazione che è cresciuta, come detto, negli anni grazie anche a chi in tempi non sospetti ha creduto in questo progetto, a partire dai volontari. Noi abbiamo incontrato Carla Platter, volontario storico in Croce Bianca, per farci raccontare la sua storia. Sì, io quando sono andato lì alla Croce Bianca ho visto la prima volta un'ambulanza della Croce Bianca, perché erano solo due e era la prima volta che ho visto sulla strada. Perché era molto bisogno di volontari, mi hanno chiesto che venga anche io a fare del volontariato. E così sono andato lì, era nel 7 settembre 1966 e da quel tempo sono ancora... Ho fatto tre anni, 30 anni di pronto soccorso e dopo 30 anni erano tre dei miei figli, erano anche volontari della Croce Bianca. Allora io ho detto, il papà va adesso in pensione, io sono andato dalla Croce Bianca alla protezione civile. La Croce Bianca negli anni è migliorata, i volontari seguono in maniera assidua corsi di aggiornamento, sanno utilizzare diversi macchinari e strumentazioni, in passato invece salendo sulle poche ambulanze in dotazione. Sì, nell'ambulanza c'era solo una bombola di ossigeno, non di più, poco roba, non c'era la radio, i telefoni non erano, anche in piazza non c'erano, i telefoni erano solo dentro nei alberghi, di notte erano chiusi, siamo andati dai carabinieri a telefonare e nella nostra sede c'è un altro viaggio. Per trasportare i pazienti, magari fino all'ospedale di Verona, 50 anni fa non c'era neppure l'autostrada, si doveva percorrere la trafficata statale ed i volontari non potevano nemmeno contare sul prezioso aiuto dei vigili del fuoco. Ovviamente ci sono stati momenti più o meno belli, più o meno intensi, ma ciò che rende felice Karl e chi, come lui, ha dedicato molti anni della sua vita in favore del prossimo è vedere molti giovani avvicinarsi al volontariato in Croce Bianca. E' quello che mi fa molto piacere, no? Perché noi abbiamo cominciato con piccole cose e oggi sono tutti bravissimi.